Gentile Pubblico, Estoria 2015, undicesimo festival internazionale della storia, vi rinnova il suo benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero degli Esteri, del Comune di Gorizia, della Provincia di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Associazione Italiana Editori e dell'Università degli Studi di Udine, grazie anche al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e ovviamente degli amici di E-Storia, cui vi invitiamo ad aderire. Sta per iniziare l'incontro intitolato Il Genocidio degli Armeni. Intervengono Antonia Slam, Marcello Flori, Sages Garzarian, scusate, interviene e coordina Antonio Carioti, in collaborazione con l'Associazione Culturale Apertamente. Buona storia a tutti. Io sono Antonio Carioti, sono un giornalista del Corriere della Sera, vi saluto e vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione così folta a questo nostro dibattito. Il tema di cui parliamo oggi è legato al centenario della Prima Guerra Mondiale. Domani, voi sapete, è il centenario dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale ha tanti avvenimenti al suo interno, è una gigantesca tragedia con tante tragedie che ne fanno parte e che vi rientrano. Uno degli eventi più terribili che si inquadrano nel contesto più complessivo della Prima Guerra Mondiale è il genocidio degli Armeni, il cui anniversario è stato nello scorso aprile, è stato celebrato in Armenia e in tutto il mondo dalla grande diaspora degli Armeni che vivono praticamente in tutti i paesi del mondo, ce ne sono molti anche in Italia e ho appena saputo anche qui a Gorizia c'è una presenza di persone di origine armena. Il genocidio armeno è un evento che si sviluppa all'interno dell'impero ottomano, c'è questo governo dei giovani turchi fortemente nazionalista, l'impero ottomano è entrato in guerra nell'autunno del 1914 al fianco degli imperi centrali, della Germania e dell'Austria e Ungheria e quindi in guerra contro l'intesa, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia, al suo interno è un impero composito che ha popoli di varie etnie, di varie religioni e i giovani turchi identificano gli armeni che sono un popolo di religione cristiana, tra l'altro se non sbaglio un popolo di origine antichissima che è stato il primo ad adottare il cristianesimo come la propria religione, quindi parliamo veramente dell'epoca dell'antichità, ecco identificano gli armeni come un possibile nemico interno, come una possibile potenziale minaccia e scatenano una politica violentissima di pulizia etnica contro gli armeni, deportazioni, massacri, quello che si può definire appunto un vero e proprio genocidio. Per parlare di questo argomento, per rievocare questo evento così tragico abbiamo qui dei relatori molto qualificati, innanzitutto qui accanto a me è l'ambasciatore della Repubblica di Armenia, voi sapete l'Armenia è stata per lunghi anni una Repubblica Sovietica ma adesso dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica è uno stato indipendente, quindi noi abbiamo qui l'ambasciatore Sarghis Gazarian che appunto è il rappresentante dell'Armenia nel nostro paese. Poi qui più vicino a me c'è Antoni Aslan di cui sicuramente molti voi avete sentito, hanno sentito parlare. Antoni Aslan è una docente di letteratura di Padova e di origine armena e ha scritto tutta una serie di libri per ricordare la storia della sua famiglia nell'ambito della tragedia terribile del genocidio armeno. Il più famoso è La masseria delle allodole, un libro che è stato tradotto in diverse lingue e dal quale è stato anche tratto un film dei fratelli Taviani, poi c'è La strada di Smirne e l'ultimo che è uscito quest'anno è Il rumore delle perle di legno. Un altro libro da ricordare tra quelli che sono stati pubblicati da Antoni Aslan è Il libro di Mush che appunto è anche questo uscito recentemente presso Schirà. Infine qui accanto a me c'è Marcello Flores che è senza dubbio lo storico italiano che ha dedicato maggiore attenzione all'argomento, c'è un suo libro Il genocidio degli armeni che è appena uscito in seconda edizione molto ampliata in cui appunto ricostruisce questo evento nei suoi dettagli, a lui dobbiamo anche le immagini che scorrono qui alle nostre spalle, si tratta di immagini di grande valore documentario e storico perché furono appunto fotografie scattate da un militare tedesco Armin Wegner che fu il primo nonostante il suo paese fosse alleato con la Turchia a denunciare quello che stava avvenendo in Turchia, la strage degli armeni che si stava perpetrando. Allora noi procederemo adesso con degli interventi iniziali, mi raccomando ai nostri relatori di essere un po' stringati anche perché abbiamo cominciato in ritardo, comunque interventi diciamo di 10 minuti massimo un quarto d'ora mi raccomando e poi vediamo se c'è qualche domanda dal pubblico e faremo delle repliche per terminare il nostro dibattito. Darei innanzitutto la parola all'ambasciatore Gazarian proprio per chiedergli come l'Armenia che oggi è uno stato indipendente vive questa grande tragedia che ha alle sue spalle e che si è consumata un secolo fa. Grazie mille, innanzitutto anch'io davvero vorrei esprimere la mia gratitudine per l'organizzazione, per coloro che anche i volontari naturalmente che si impegnano ormai non so quale edizione sia ma io mi ricordo le prime edizioni l'undicesima di questa iniziativa straordinaria. Bene, è per me veramente emblematico e anche emozionante parlare del genocidio armeno a Gorizia non certamente perché sono cresciuto, ho studiato a Gorizia, ho abitato a due passi da questa tenda ma perché a Gorizia la città e la sua comunità mi ha dimostrato la possibilità di superare il trauma storico. Voi siete riusciti a trasformare in qualche modo la cronaca in storia. Oggi quando parliamo del genocidio armeno dalla prospettiva dello Stato, della Repubblica d'Armenia, ma sono certo di interpretare anche il sentire della diaspora armena, si è in qualche modo ancora bloccati in quel processo di trasformazione della cronaca in storia per ciò che concerne il genocidio armeno. Il genocidio armeno non è una questione storica come abbiamo sentito in qualche modo pronunciare da singolari e con minoritarie voci nelle ultime settimane anche in Italia è un fatto storico che finché non riconosciuto e condannato dai discendenti dei carnefici produce effetti politici, quindi sta alla politica in qualche modo rispondere al quesito. Di conseguenza, appunto, per in qualche modo rispondere alla sua domanda, dalla prospettiva della Repubblica o della mia generazione di armeni, il nostro approccio al genocidio armeno è almeno triplice. Quello di fare memoria non tanto come concetto contrapposto all'oblio, non tanto una memoria descrittiva quanto una memoria prescrittiva, una memoria attesa alla prevenzione dei genocidi. Ecco, Elie Wiesel, il premio Nobel, il sopravvissuto ad Auschwitz, ripeteva spesso che l'ultimo atto di un genocidio è la sua negazione e quell'atto con cui un crimine contro l'umanità ideato, implementato, portato a termine con successo, negato e dimenticato diventa un crimine perfetto, diventa replicabile. D'altronde il Novecento. Se c'è una lezione del Novecento è che è stato quel secolo breve una sommatoria di crimini contro l'umanità, di genocidi che seguivano appunto il metodo dell'implementazione, negazione e di conseguenza la recidiva. Di conseguenza la nostra richiesta e la nostra azione tesa a una memoria prescrittiva sicuramente non può essere considerata armenocentrica. È uno sforzo universale, tanto quanto universale è il crimine del genocidio. In secondo luogo, certo per noi è importante il contrasto, la lotta quotidiana al negazionismo, al negazionismo del genocidio armeno e dei genocidi. Anche qua finché i genocidi non sono ancora storia ma sono ancora cronaca. Sicuramente i fatti di cronaca degli ultimi due anni che provengono dal Medio Oriente certamente sono una prova di un'azione genocidaria in corso contro le minoranze etniche e religiose. E di conseguenza il contrasto al negazionismo, questo sicuramente è implementato a livello statale con le istituzioni armene, noi la interpretiamo anche questo in termini piuttosto, io direi nuovi. Il nostro contrasto al negazionismo non vuole essere esercitato attraverso accolpi di codici penali. Anche se io ho una mia personale opinione per cui la libertà di espressione di un negazionista non può essere considerato allo stesso piano etico e morale rispetto al diritto alla memoria di un sopravvissuto o dei discendenti dei sopravvissuti di un genocidio. Ad ogni modo il nostro approccio al contrasto al negazionismo si esplicita nelle scuole con la giusta informazione e nelle scuole sicuramente che si creano gli anticorpi per il negazionismo, contro il negazionismo. Quindi sono davvero molto felice di vedere anche degli studenti delle scuole. E in terzo luogo, non meno importante, è la nostra azione quotidiana per la prevenzione dei genocidi. Noi lo stiamo facendo dal primo giorno della dichiarazione dell'indipendenza nelle organizzazioni internazionali preposte. Da cinque anni l'Armenia è il rapporteur per le Nazioni Unite di quella convenzione per la repressione del crimine di genocidio, prevenzione e repressione del crimine di genocidio. E qua sono molto anche contento del fatto che da tre anni l'Italia ufficialmente si allinea con l'azione armenia proprio in questa direzione. In altri termini, per arrivare a una risposta alla sua domanda, forse quella più onnicomprensiva, almeno per la mia generazione, noi viviamo e creiamo oggi uno Stato che è la risposta più eclatante, la Repubblica d'Armenia, a quell'intento genocidario di cent'anni fa. La mia generazione di armeni sta trasformando l'utopia in realtà. Vive anche e crea anche per quel milione e mezzo di armeni che non hanno vissuto e non hanno creato. Grazie. L'ambasciatore ha posto un problema molto grave che è legato al genocidio armenio. Il fatto che per molti anni questo evento sia stato disconosciuto anche perché è la Turchia che ha sempre cercato di negare o quantomeno di ridimensionare la portata dei crimini che vennero compiuti in quegli anni e dato il peso che aveva e che ha tuttora la Turchia sullo scenario internazionale questo rendeva più difficile parlare di questo argomento. E' solo di recente per la verità che hanno cominciato ad uscire in maniera più continuativa, organica degli studi, delle ricerche. Si è cominciato a parlare di più del genocidio armenio. E certamente Antoni Aslan è una delle protagoniste di questa diciamo fioritura di studi, di ricordi. E a lei volevo chiedere come la diaspora, no? Perché c'è uno stato dell'Armenia che si è costituito dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica ma c'è soprattutto questa grandissima diaspora armenia. Gli armeni sono fuggiti, si sono trasferiti, popolano un po' tutto il mondo. Come dicevamo prima c'è una presenza armenia diffusa un po' in tutte le parti del nostro pianeta. Ecco, come ha vissuto questa diaspora la situazione di aver alle proprie spalle una tragedia di quelle dimensioni e di dover combattere contro una tendenza a ridimensionarla, a tacerla, a cancellarla. Qual è stata questa esperienza? Grazie, è un'ottima domanda. Perché la diaspora armenia è molto numerosa ed si è costituita soprattutto dopo il genocidio e costituita da persone che adesso sono quasi tutti morti. A me è capitato di conoscerne qualcuno qualche anno fa, erano ormai così anziani. Una volta a Times Square, a New York, c'era questa in occasione del 24 aprile che è, come forse sapete, per gli armeni il giorno della memoria, il giorno in cui tutto ebbe inizio nel 1915. C'erano schierati in questa grande piazza di New York 5-6 mila persone. In prima fila, gli ultimi sopravvissuti. Ognuno di loro aveva, erano su sedie a rotelle, ognuno aveva una bandierina in mano, due bandierine. Una degli Stati Uniti, erano tutti cittadini americani, e la seconda della Repubblica d'Armenia. E questi vecchietti avevano le loro bandierine e guardavano. E uno mi ha detto, a un certo punto io mi ero, dovevo parlare, mi ero preparata a un piccolo discorso. Mi è andato via tutto dalla mente, non mi è mai successo. Mi sentivo assolutamente vuota, guardavo gli occhi di questi vecchi, di queste vecchie signore, ognuno vestito pulitamente, con questi occhi disperati. E alla fine uno di loro mi sono avvicinata e mi ha detto, mi ha detto, ogni anno ci dicono, non è ancora il momento per il riconoscimento, ma io sto per andare dall'altra parte, e il momento per me non è mai venuto. Per la diaspora, la negazione del genocidio è stata una ferita sempre aperta, che si è trasmessa da queste povere creature che spesso non parlavano ai loro figli, ai loro nipoti, adesso alla quarta generazione. E sono persone che sono ormai immerse nella vita delle nazioni di cui fanno parte. Chiaramente un armeno francese è diverso da un armeno italiano, è nato, cresciuto, io non posso scrivere che in italiano, questa è la mia lingua. Quindi c'è evidentemente un imprinting che poi succede quando vivi, e magari anche tua madre, come nel mio caso, è italiana, e quindi sei italiano, ma sei anche in parte portatore di questa eredità tragica, negata, di una ferita sempre aperta, di una ferita che non si chiude, che non può chiudersi finché non ci sarà almeno una richiesta di scuse, un po', un progressivo, cauto riconoscimento. E' chiaro che mille difficoltà si oppongono oggi al fatto che lo Stato di Turchia dica ai suoi cittadini, ops, finora abbiamo sbagliato, adesso vi diciamo la verità. Però tantissimi turchi hanno cominciato a fare questo processo di autocoscienza, ed è un movimento che si espande nel paese, ma che ancora le autorità negano. E per concludere, sarò molto breve perché vorrei poi appunto sentire anche voi se avete qualcosa, qualche domanda. Questa caratteristica che vi dicevo, perché ho citato per primo gli americani? Perché voi sapete, forse, ma è sempre utile ripeterlo, che proprio negli Stati Uniti vive un numero di armeni in diaspora che sono più di un milione, forse anche un milione e duecento, un milione e trecento, solo nella zona, solo in California, ci sono cittadine intere come Glendale, Fresno, dove avete addirittura le insegne dei negozi scritte anche in caratteri armeni. In Francia sono circa 600 mila, in Russia sono più di un milione, ma quella è anche spesso un'emigrazione stagionale. Ma in Italia no. L'Italia che sta scrivendo, pensando, emozionandosi sulla tragedia degli armeni, ha poche migliaia di armeni ed è un grande movimento emotivo, intellettuale, da parte proprio degli italiani, non dei pochi armeni che ci vivono, che si interessa, legge, poi vuole approfondire, legge il mio romanzo, mettiamo i miei romanzi, ma poi legge i libri di storia, vuole sapere, guardate quanti siete, è talmente meraviglioso e continua a succedere, è vero o no? Succede in tutta Italia questo movimento, questa curiosità, questa empatia e io credo che sia una delle cose che per chi ha sangue armeno nelle vene è più consolante, ma nello stesso tempo stimolante. Per una volta tanto possiamo dire davvero una buona battaglia. l'Italia ha riconosciuto fra i primi paesi al mondo il genocidio armeno e questo non va dimenticato, con un voto del Parlamento che è stato unanime. Quindi, cosa abbastanza rara in parlamenti così rissosi come i nostri, è stato l'intero arco del Parlamento che ha votato a favore di questa mozione, non una mozione aggressiva, ma semplicemente di documentazione e di esortazione e di preghiera a questo grande paese che è la Turchia di aprire queste scatole chiuse, di sollevare questo velo di silenzio, questa enorme coltre di complicità silenziosa che è stata adagiata sul passato. Grazie. Marcello Flores, come si misura la storiografia con questo evento così terribile del genocidio armeno, evento appunto su cui per molti anni è stato calato un velo se non di silenzio, di reticenza, probabilmente è anche difficile fare ricerca sul genocidio armeno come tu hai fatto e il confronto con la storiografia turca di questo paese che ha tentato sempre di cancellare insomma le tracce di questo, almeno a livello ufficiale, di cancellare le tracce di questo crimine che è stato compiuto nel 1915. Oggi a che punto è il dibattito? So che si discute anche sulla opportunità di usare la parola genocidio, il titolo del suo libro è per certi versi una presa di posizione in questo senso perché appunto il genocidio degli armeni. Sul termine genocidio degli armeni credo che non ci sia praticamente più dubbio se non da parte di una piccola minoranza credo anche in Turchia. Due anni fa è uscito in Turchia un libro in turco che tra po' sarà pubblicato anche in italiano il cui titolo è 1915 il genocidio degli armeni. Dieci anni fa quel libro sarebbe stato messo subito sotto processo adesso è stato un best seller e soprattutto l'autore di quel libro un giornalista e scrittore era è il nipote di uno dei tre triunveri che sono stati i responsabili del genocidio è come se il nipote di Goering raccontasse e avesse raccontate le malefatte del nonno durante la Shoah. Quindi questo significa che è cambiato enormemente negli ultimi dieci anni soprattutto negli ultimi la percezione e del resto la grandissima presenza qui e l'attenzione che ormai anche in Italia c'è non solo e non tanto forse per i libri di storia ma anche per i romanzi come quello di Antonia che ha avuto un successo enorme e che è riuscito davvero a far entrare un po' in tutte le case almeno una minima conoscenza degli armeni. Oggi gli storici turchi che lavorano in Turchia o che lavorano in università straniere che scrivono del genocidio sono tantissimi perché dieci quindici anni fa è iniziato un seminario internazionale in cui i giovani storici turchi armeni americani europei si sono messi insieme per andare a scoprire che cosa davvero fosse successo e per un certo periodo hanno messo tra parentesi la questione del termine genocidio termine genocidio è una questione che ancora oggi è controversa se pensiamo a quello che sta accadendo in Siria a quello che accade in Darfur a quello che accade in tanti altri posti perché ci sono posizioni diverse anche tra i giuristi anche delle corti internazionali hanno dato sentenze diverse e rispetto al massacro degli armeni dire usiamo la parola genocidio che all'epoca è una parola che non esisteva perché il termine nasce nel 1944 è servita a dire non usiamola anche se poi le caratteristiche come si è visto e si vede sono esattamente quelle del concetto del genocidio ebbene questo grande sforzo ha permesso di fare un salto storiografico enorme negli ultimi anni sulla documentazione possibile una documentazione che in gran parte era dimenticata è difficile perché la gran parte dei documenti sono negli archivi turchi ma sono in lingua ottomana in cui la maggior parte degli storici turchi attuali non leggono e è stato uno storico turco che è quello che forse più di tutti ha permesso di conoscere il genocidio Tanerakcham che è riuscito a pubblicare a utilizzare 800 documenti in questa vecchia lingua ottomana di cui la metà erano telegrammi che il principale responsabile e i vertici del governo dei giovani turchi mandavano in giro e che sono chiaramente l'esempio di quello che stava accadendo non c'è l'ordine andate e uccidete tutti gli armeni come del resto quest'ordine non c'è mai stato neanche da parte di Hitler non si è mai trovato e non esiste e non poteva esistere eppure la Shoah il genocidio degli ebrei evidentemente c'è stato questi telegrammi però chiedevano ai governatori e ai capi militari di ogni regione quanti armeni ancora sono rimasti anzi prima quanti armeni ci sono nel vostro distretto nel vostro vilayet quanti ne avete deportati quanti ne avete uccisi beh chiaramente questo rientrava in una logica che è una logica che ha delle date molto precise domani ricordava Carioti l'Italia ricorda l'ingresso in guerra ma nella stessa data Francia Gran Bretagna e Russia avevano fatto una dichiarazione ufficiale importantissima che diceva al governo ottomano sappiamo che state massacrando gli armeni riterremo responsabili ognuno di voi alla fine della guerra che sta commettendo ed è la prima volta che questo termine viene usato che sta commettendo un crimine contro l'umanità perché si aveva la consapevolezza da parte delle grandi potenze che quelle violenze contro gli armeni erano qualcosa di nuovo di eccezionale di incredibile che doveva essere valutato compreso e sanzionato alla fine della guerra in un altro modo era un mese dopo l'inizio ufficiale del genocidio il 24 aprile centinaia di persone nella capitale a Costantinopoli o a Istanbul vengono arrestate sono le elite armene sono i politici i religiosi gli intellettuali i finanzieri gli industriali i giornalisti i medici e così via di questi quasi tutti saranno uccisi nelle settimane successive ma già sono iniziate in alcune zone delle uccisioni di armeni gli armeni che stavano combattendo nella guerra dentro l'esercito ottomano a febbraio vengono disarmati e vengono messi in dei battaglioni di lavoro per fare le strade le ferrovie eccetera un po' alla volta molti di loro vengono uccisi la situazione è diversa da regione a regione perché ci sono dei capi militari e dei governatori di regione che sono più ferocemente anti-armeni ma quando a partire dall'aprile si comincia a pensare a questa generalizzazione succede anche che molti governatori si rifiutano di partecipare di dare inizio alla deportazione o all'uccisione degli armeni gli uccisi erano soprattutto i giovani in età militare i deportati sono soprattutto donne vecchi e bambini e questi governatori sono o rimossi o in alcuni casi addirittura uccisi erano governatori che facevano parte del partito dei giovani turchi anche loro ci sono due leggi fondamentali tre diciamo che caratterizzano e rendono evidente questo genocidio il 27 maggio la legge di deportazione che significa che tutti gli armeni debbono essere espulsi dall'Anatolia e dalla Cilicia l'Anatolia era il loro cuore nelle sette province nell'est dell'Anatolia in molte di queste gli armeni erano o erano stati maggioranza nella storia adesso sono costretti a prendere i loro averi quei pochi riescono a portarsi dietro e andare in delle carovane in settimane e settimane di viaggi terribili tra la fame il caldo il freddo le aggressioni da parte di banditi di gruppi di militari di chiunque volesse fino al deserto della Siria e in questa lunga deportazione muoiono circa 800.000 persone quindi è già la prima grande ondata del genocidio che si trattasse di una deportazione senza limiti lo dimostra una legge che c'è il 10 giugno che è quella della confisca di tutti i beni degli armeni gli armeni non possono più avere nessuna proprietà ogni proprietà requisita venduta distribuita tra i turchi infine c'è un'altra legge all'inizio di luglio che sarà quella che provocherà la seconda ondata di uccisioni nel 1916 una legge che decide che in tutte le province dell'impero ottomano in quelle occidentali non ci possa essere più del 5% di presenza di popoli minoritari di minoranze quindi anche di armeni e in quelle orientali non più del 10% di queste del 10% il caso vuole che la stragrande maggioranza degli armeni sopravvissuti nelle marce della morte ai massacri arrivano nella provincia di Aleppo sono messi in dei campi tutti attorno alla provincia di Aleppo ed è ovvio che siccome sono in 800.000 che sono comunque arrivati lì il loro numero è ben superiore a quel 10% ebbene nel giro di qualche mese 500.000 vengono uccisi nei campi e questa è la seconda ondata che forse è meno nota meno conosciuta ma altrettanto terribile quando gli inglesi entrano nel campo di Derzor che era il più grande che conteneva 200.000 armeni ci trovano mille armeni solamente sopravvissuti ecco credo che la ormai chiarezza sulla realtà del genocidio avvenuto ce l'ha dato anche quello che sono state altre costruzioni ricostruzioni storiche di cui oggi noi disponiamo apertamente la più importante è quella dei processi che ci furono nel 1919 e 20 contro i responsabili del genocidio da parte di chi con l'armistizio gli inglesi impongono nel impero ottomano un nuovo governo che è formato da quei liberali del partito dei giovani turchi che erano stati estromessi nel 1910 e poi ancora di più nel 1913 e 1914 da il gruppo nazionalista radicale che aveva preso il comando della situazione adesso sono loro che ritornano e decidono una serie di corti marziali dopo una discussione ampia in Parlamento estremamente ricca bella interessante per giudicare coloro che si sono resi responsabili delle violenze contro gli armeni e ci sono tanti processi tantissimi con molte condanne la più importante la più significativa è quella che vede i tre triunviri Talat Enver e Gemal insieme ai due civili maggiormente responsabili di una milizia parallela all'organizzazione speciale che erano due medici e che saranno condannati a morte ma in contumacia perché i tedeschi li avevano intanto fatti fuggire una condanna in contumacia che comunque verrà in qualche modo realizzata perché un gruppo di giovani sopravvissuti armeni metterà in piedi una operazione segreta l'operazione Nemesis l'operazione vendetta che andrà a prenderli uno per uno e ucciderli uccidere solo loro solo coloro che erano stati condannati dal tribunale e termino con il caso del primo di queste uccisioni che avviene a Berlino un giovane che uccide Talat che era il maggiore responsabile era il capo del governo quello che all'ambasciatore americano diceva che gli chiedeva ma perché ve la prendete anche con i bambini diceva beh i bambini poi cresceranno quindi noi dobbiamo metterci al riparo e evitare che chiunque possa poi muoversi contro di noi che uccide a Berlino Talat viene ovviamente catturato perché si fa catturare viene processato due settimane dopo e il giudice tedesco lo assolve per aver agito per alti motivi morali grazie i nostri relatori sono stati molto disciplinati sono rimasti nei tempi quindi abbiamo la possibilità di qualche domanda da parte del pubblico prima delle conclusioni se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda c'è un signore mi pare se vi siete dati un perché sia successo questo genocidio grazie c'è un altro signore qui davanti che voleva intervenire sì abbiamo ho sentito no lei quindi ci sono tutta una serie di fatti quindi processi telegrammi come mai Erdogan cioè nega ancora adesso cioè quindi i processi sono stati fatti e quindi ci sono i telegrammi tutti gli avvenimenti la Francia l'Inghilterra già nel 2015 come mai adesso ancora persiste abbiamo visto l'attacco al Papa che ha fermato nuovamente perché già prima Paolo II aveva denunciato perché ecco questo atteggiamento così rigido di Erdogan sì perché lei ha detto anche è stato pubblicato un libro quindi allora il popolo turco da quanto ho sentito nella stragrande maggioranza crede che questi fatti siano avvenuti in questo modo quindi perché il governo Erdogan assume questo atteggiamento così fermo e rigido grazie è completo in realtà la domanda cioè nel senso può influire oggi al presente ne ha parlato qualche volta la professoressa Aslan anche la possibilità di di riconoscimenti territoriali economici rispetto al genocidio cioè del popolo armeno nei confronti del governo turco e quanto può aver influito nella storia complessiva anche una corresponsabilità di Mustafa Kemal Ataturk che in qualche modo per molto tempo non è mai stato messo in discussione come leader di tutta la patria turca e che invece non è totalmente esente ovviamente della responsabilità nel 1915 in modo particolare grazie direi che possiamo ah no c'è un altro vorrei chiedere all'ambasciatore qual è la situazione attuale nel Nagorno Karabakh e se è vero che sta montando la tensione anche perché l'Azerbaijan sta moltiplicando ecco le spese per gli armamenti forse si conviene rispondere o c'è qualcun altro vedo una mano che si alza là in fondo le domande erano due la prima è quanto ha influito la perdita dei territori occidentali dell'impero ottomano Bulgaria eccetera o i Balcani a fine ottocento e l'emigrazione indietro la seconda che mi ha lasciato perplesso anni fa ero stato a Venezia sia agli armeni mi ero dispiaciuto per i kurdi dopodiché quelli che erano lì quasi mi mangiano perché hanno detto no i kurdi sono i principali responsabili come esecutori materiali del genocidio ecco sono queste due domande che volevo fare se è vero e come e la prima ovviamente anche grazie forse possiamo cominciare a dare le risposte ecco io cercherò di di raggruppare un po' a tematicamente le domande il perché del genocidio armeno e beh i motivi di tutti i genocidi sono a mio parere ciò che viene definito la banalità del male ecco mi mi viene in mente una dichiarazione del 22 agosto del 1939 di Adolf Hitler a Ober Salzberg una decina di giorni prima dell'invasione della Polonia di fronte allo stato maggiore dell'esercito nazista li incita incita i suoi generali a essere celeri nell'uccisione a essere spietati a non fermarsi di fronte a nulla a civili a donne bambini anziani conclude il suo discorso domandandosi cinicamente chi dopo tutto si ricorda ancora dell'agnentamento degli armeni nell'impero ottomano no è quella è quel male banale che riemerge ciclicamente nella storia il è uscito ultimamente tra l'altro con la prefazione della professoressa Arslan questo volume molto bello della giuntina si chiama Pro Armenia sono le voci le testimonianze ebraiche presenti nell'impero ottomano sul genocidio armeno e io sono riduce di un recentissimo viaggio in Israele parlando con dei colleghi davvero c'era questa questa condivisa opinione per cui il il corpo estragno dell'impero ottomano durante la prima guerra mondiale quello principale dalla prospettiva dei giovani turchi erano gli armeni e se la guerra non fosse conclusa nel 1918 poi arrivava il turno di tutti gli altri sarebbe arrivato il turno di tutti gli altri i genocidi tra l'altro non per la scala dell'azione questa è un'altra lezione del novecento e per la portata dell'azione non vengono in realtà generate da menti irrazionali le decisioni genocidarie sono di una razionalità assolutamente viscerale ma allo stesso tempo vi è l'utilizzo degli strumenti scientifici e industriali all'avanguardia nel momento della decisione quindi sono delle decisioni irrazionali nel caso del genocidio armeno c'è poi una combinazione anche con un aspetto religioso ma lo strumento in quel momento all'avanguardia che si utilizzava per l'eliminazione degli armeni e per la loro deportazione era da un lato la ferrovia Berlino-Baghdad e invece per le comunicazioni era il telegrafo che era stato appena introdotto nell'impero ottomano dai tedeschi c'era a proposito del negazionismo turco noi abbiamo davvero con stupore scoperto un'intenzione io vorrei interpretarla così del governo attuale turco tra l'altro quando parlo del governo turco dell'esecutivo turco della verticale di potere Cavusoglu Davutoglu e Erdogan sicuramente non mi riferisco alla società civile turca al popolo turco che credo che questo governo non sia all'altezza di rappresentarli bene il 15 aprile dopo una risoluzione anche questa pienamente condivisa ampiamente votata a favore da parte del Parlamento europeo che da un lato commemorava il genocidio armeno dall'altro invitava la Turchia a fare i conti con la storia a normalizzare i rapporti con l'Armenia per inciso il confine armeno-turco dal 1993 è chiuso unilateralmente da parte turca la Turchia rifiuta rapporti diplomatici con l'Armenia bene un invito di questo genere a fare i conti con la storia e a normalizzare i rapporti con la Turchia per proseguire in quel cammino della Turchia verso l'Unione Europea che tra l'altro non si chiedeva niente di straordinario lo stesso processo di integrazione europea si basa sulla riconciliazione delle grandi nazioni e sulle assunzioni di colpa subito dopo la seconda guerra mondiale bene quella sera Erdogan replicò minacciando la deportazione di centomila armeni dalla Turchia cento anni dopo il genocidio armeno quindi abbiamo evidentemente un governo che in realtà a giudicare da quello che invece è il pensiero dell'intelligenza è proprio quella sera a giudicare da quella che è la risposta invece dell'intelligenza turca che è chiaro che non è ancora opinione pubblica non è ancora elettorato ma ecco io le nostre speranze non solo degli armeni ma dell'Europa è quella società civile turca estremamente audace molto progressista che può determinare una svolta in termini epocali non soltanto sul tema del genocidio armenio in Turchia ma in termini molto più ampi su una trasformazione in termini appunto liberali dello Stato in Turchia ed è quel segmento della società turca che ha bisogno ha necessità di supporto quotidiano da parte dell'Europa delle sue istituzioni ma anche delle sue comunità rispondo brevemente invece alla questione sul Nagorno Karabakh è vero la situazione è estremamente tesa ecco se l'ultimo atto di un genocidio è la negazione stessa del genocidio il primo atto di qualsiasi genocidio è la demonizzazione dell'altro come tale noi purtroppo siamo noi armeni siamo confrontati con un nuovo fenomeno grottesco che si chiama armenofobia e quel celebrare degli assassini degli armeni da parte del regime dittatoriale dell'Azerbaijan che ormai ha una natura quasi a una cadenza quasi settimanale il paese definisce il suo rapporto durante i vertici presidenziali semestrali con la Turchia come il rapporto di una nazione divisa in due stati e la cartina geografica ci suggerisce che fra i due stati c'è l'Armenia quindi siamo sfidati ancora una volta la nostra sicurezza è messa a dura prova proprio da questa intenzione continua l'Azerbaijan d'altronde negli ultimi dieci anni ha aumentato la spesa militare del 2700% questo è un dato incomparabile rispetto perfino con il riarmo della Germania nazista negli anni 30 e non fa segreto dell'utilizzo dello strumento militare appunto l'invasione del Nagorno-Karabakh e dell'Armenia in termini concettuali è vero che se l'ultimo atto di un genocidio e la sua negazione il primo atto di un genocidio è invece la demonizzazione dell'altro fra i due c'è quello che Gramsci chiamava la palude dell'indifferenza ecco oggi noi dobbiamo sconfiggere dobbiamo colmare in qualche modo questa palude dell'indifferenza che dalla mia prospettiva è complicità c'è un articolo bellissimo di Gramsci del 1916 Gramsci ha 25 anni è un jacquise contro l'indifferenza europea dice si scrisse molto di più per la caduta di un zeppelin in Francia che per il massacro di centinaia di migliaia di armeni e per la prima volta usa il il suo il leitmotiv del suo pensiero l'indifferenza in quell'articolo e risponde appunto alla domanda di perché l'Europa è stata così indifferente la sua risposta era perché la civiltà armena la millenaria civiltà armena e la letteratura armena non erano sufficientemente conosciuti nonostante il fatto che c'era questo senatore Ciamy Cian di Armeno al senato appunto reggio in quel periodo che aveva lanciato un movimento letterario anche a Torino ecco sicuramente appunto per noi lo scopo principale in questo momento è quello da un lato di combattere l'indifferenza sul genocidio armenio ma sui genocidi in generale dall'altro lato suonerà molto paradossale ma l'Armenia la Repubblica d'Armenia i discendenti dei sopravvissuti al genocidio armenio già nel 2008 lanciava un'iniziativa unilateralmente di normalizzazione di rapporti e istituzione di rapporti diplomatici con la Turchia era un processo supportato dagli Stati Uniti dall'Unione Europea dalla Federazione Russa un allineamento piuttosto singolare di questi tempi bene due anni di negoziati piuttosto costosi in termini anche di risorse politiche il nostro approccio era normalizzazione dei rapporti con la Turchia senza precondizioni dalla nostra prospettiva sta al popolo e alla società turca fare i conti con la storia due anni di negoziati produssero due protocolli uno sulla normalizzazione dei rapporti e l'apertura del confine da parte della Turchia l'altro sull'istituzione dei rapporti diplomatici la firma il 10 novembre del 2009 con un'altra raccomandazione delle parti coinvolte per una ratifica in tempi ragionevoli e senza precondizioni bene la mattina dopo l'allora primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan si rifiutò di portare i due protocolli in Parlamento e di ratificarli vi è uno stallo politico ancora in corso grazie Antonia Aslan sarò sarò brevissima visto che stiamo rispondendo mi pare che qualcuno avesse chiesto anche dei kurdi giusto? ecco e sì il popolo kurdo è stato usato durante il genocidio armeno proprio come manovalanza e anche lanciando le tribù kurde contro gli armeni le loro proprietà le loro donne le loro la loro realtà devo dire che però poi i rappresentanti ufficiali del governo kurdo del Parlamento kurdo in esilio a Bruxelles e anche a me personalmente due o tre volte in Italia rappresentanti il capo della minoranza turca kurda in Italia scusate sono venuti in occasioni come queste forse non così numerose ma comunque ben frequentate a chiedere ufficialmente scusa cioè mi è successo tre volte è stato una una cosa un evento devo dire che mi ha che mi ha veramente in qualche modo dato un senso di pace emozionato capite è qualche cosa in cui tu capisci che questo sana davvero le ferite e comunque il pronunciamento ufficiale del Parlamento kurdo in esilio e infine a tanti altri che si sono poi succeduti è stato proprio in questa direzione d'altronde siccome i kurdi sono la quarta minoranza e non erano stati toccati come le prime tre sono stati aggrediti poi dopo la guerra dal massacro del 1930 ai massacri successivi alle desertificazioni dei villaggi a tutto quello che si è anche letto purtroppo quasi mai ricordando cosa c'era stato prima pigliando il problema kurdo come isolato e invece non è isolato era l'ultima minoranza che restava all'interno della della Turchia a parte a parte gli aleviti che sono anche questi stati parecchio perseguitati ma che adesso però questi sono turchi solo che non sono musulmani sono musulmani ma diciamo un pochino erettici ecco grazie e concludiamo con Marcello Flores come scusi ah si lei ha ragione lei ha ragione vuoi rispondere tu vabbè molto velocemente Mustafa Kemal non ancora a Turchia è stato un generale di grande talento strategico un eroe dei Dardanelli della famosa battaglia dei Dardanelli alla fine della guerra quindi era un generale si occupava di quello di fare la guerra in sostanza ma non tanto la guerra interna quanto la la guerra esterna alla fine della guerra Kemal rilasciò un paio di interviste in cui biasimava e stigmatizzava quello che era successo agli armeni perché ne attribuiva in parte la colpa della sconfitta dell'impero turco collegato agli altri due imperi come sapete l'austro-ungarico e il tedesco la sconfitta anche a questa eccesso di lotta contro una minoranza interna che avevano in qualche modo reso più fragile la stessa la stessa azione di lotta e dell'esercito turco ci sono tantissimi episodi che non cito poi però quando la Grecia ebbe l'idea purtroppo abbastanza folle di invadere l'Anatolia con questo sogno di fare una riconquista di Costantinopoli e si scontrò proprio con l'esercito turco riorganizzato dal generale Kemal che attirò l'esercito greco in una specie di sacca e poi lo sconfisse e lo ricacciò a mare e poi questo portò alla distruzione della grande città a maggioranza greca e cioè di Smirne ecco da allora in poi Kemal che era estremamente abile capì che la sua nuova Turchia si sarebbe basata decise che si sarebbe basata sulla negazione di ciò che era successo agli armeni e assunse nel suo nuovo governo molte persone compromesse con gli stragi armene e da allora in poi costruì e riuscì a mettersi d'accordo con le potenze vincitrici Francia Inghilterra e Italia e a firmare il trattato di Lausanne che fu la diciamo la pietra tombale su ogni idea di una di una nazione armena e di una rivendicazione degli armeni nel frattempo dall'altra parte Stalin donava alla Turchia la zona del monte Ararat col trattato di Kars e quindi dall'ora in poi Mustafa Kemal si è ben guardato dal ritirare fuori la questione quindi è una figura molto ambigua da questo lato anche se non possiamo dire che sia stato fra i promotori del genocidio Allora molto brevemente per riassumere quello che ormai la storiografia in modo abbastanza condiviso ritiene le motivazioni politiche del genocidio nella fine dell'ottocento nel inizio del novecento l'impero ottomano perde molti territori che diventano indipendenti i turchi che abitavano in quei territori vengono ricollocati in Anatolia creando un nuovo squilibrio demografico all'interno della zona dove vivono gli armeni con le guerre balcaniche questa situazione diventa ancora più esplosiva perché l'impero ottomano perde tutta la sua parte europea i profughi turchi che vengono ricollocati nella parte asiatica cioè soprattutto in Anatolia in Cilicia sono 300.000 quindi che creano di nuovo una pressione enorme e questo avviene mentre ormai è diventato una convinzione comune il mito nazionalista di dare l'Anatolia alla Turchia di turchizzare pienamente l'Anatolia quindi c'è questo piano che ancora non si è pienamente concretizzato insomma su cui si sta lavorando di espellere in qualche modo le minoranze per dare l'Anatolia ai turchi che la considerano anche se è un'invenzione recente la loro patria con lo scoppio della guerra e con le sconfitte prima sul versante orientale con i russi poi la paura della sconfitta di Gallipoli perché sono sicuri di perdere anche se poi ci sarà invece la sconfitta inglese per gli errori che conosciamo tant'è vero che Istanbul venne evacuata completamente si decide che in quel momento la turchizzazione dell'Anatolia deve essere fatta immediatamente e quindi colpendo soprattutto la minoranza più robusta che è quella degli armeni e questo porta a quelle scelte che abbiamo visto prima che diventeranno poi il genocidio quindi c'è questo progetto che nasce da prima e che trova nell'ambito e nel contesto della prima guerra mondiale la sua possibilità di concretizzazione e le modalità sono quelle come sempre avviene soprattutto quando si vuole annientare una minoranza in una realtà di guerra con la violenza e la tragedia che conosciamo concludiamo qui ringrazio i nostri relatori ringrazio tutti voi arrivederci ringrazio tutti voi ringrazio tutti voi ringrazio tutti voi